Huawei, il famoso marchio cinese fondato nel 1987 da Zhen Zhenfei, fino a qualche anno fa era il più grande produttore di telefoni cellulari del pianeta e poi è stato pesantemente sanzionato dagli Stati Uniti, con sanzioni che rendono difficile usare un telefono Huawei in America e Man Wanzhou, cioè la figlia del fondatore, è stata persino arrestata in Canada su richiesta degli Stati Uniti. Ma l'azienda cinese, invece che morire, si è reinventata e Man Wanzhou ha vinto la sua battaglia legale e ora Huawei si sta preparando a guidare una nuova rivoluzione industriale. In questo video parliamo di tutto questo, cioè di come sopravvivere alle sanzioni statunitensi ed è una sorta di manuale di sopravvivenza da consultare nel caso in cui veniste sanzionati e di questi tempi non si sa mai, quindi bentornati su Dazbao. Il primo dicembre del 2018 Man Wanzhou viene arrestata all'aeroporto internazionale di Vancouver mentre sta facendo scalo diretta in Messico e lei è la vicepresidente del consiglio di amministrazione di Huawei e figlia del fondatore dell'azienda e il suo arresto va a surriscaldare le relazioni tra Cina e Stati Uniti e nonostante Man sia stata arrestata in Canada, l'ordine proveniva da Washington con una richiesta di estradizione per una presunta elusione da parte di Huawei delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. Gli Stati Uniti avevano appena ripristinato le sanzioni iraniane dopo che Trump aveva annunciato il ritiro unilaterale dall'accordo sul nucleare iraniano. Quest'accordo aveva fissato alcuni impegni che se mantenuti concedevano la cessazione delle sanzioni economiche nordamericane, europee e delle Nazioni Unite verso l'Iran sanzioni applicate dal 2007 a causa del suo programma nucleare ma nonostante l'Iran avesse mantenuto questi impegni, gli Stati Uniti si ritirano dall'accordo e l'Iran torna sotto sanzioni una decisione che verrà fortemente criticata da tutti gli altri paesi firmatari, tra cui Francia, Germania, Russia e Unione Europea. Ma cosa c'entra un'azienda cinese in tutto questo? Beh, il meccanismo delle sanzioni secondarie extraterritoriali statunitensi cioè un meccanismo che prevede che qualunque banca, azienda o entità al mondo che continua a commerciare con l'Iran sarà a sua volta sanzionata nel caso in cui le transazioni avvengano in dollari, cioè quasi sempre o nel caso in cui si tratti di tecnologia che contiene una qualsivoglia componentistica statunitense, cioè quasi sempre. Meng Wanzhou è accusata di aver coperto i tentativi di società collegate a Huawei di vendere attrezzature all'Iran infrangendo le sanzioni contro il paese e al che le ipotesi che si aprono sono due cioè o la Cina per quieto vivere accetta la decisione statunitense nella speranza di evitare che l'azienda finisca in qualche blacklist americana oppure tira su un gran casino per far liberare Meng. Come ovvio la Cina decide di fare un gran casino e comincia ad arrestare canadesi residenti in Cina e a bloccare il commercio col Canada in vari settori e la difesa di Meng sostiene l'archiviazione del caso perché l'accusa riguarda un crimine che non esiste in Canada e mancano quindi requisiti della doppia incriminabilità che stanno alla base di una richiesta di estradizione. Il padre di Meng, cioè Ren Genfei, afferma di essere orgoglioso che sua figlia sia diventata merce di scambio tra Cina e Stati Uniti e secondo lui tutto sommato l'arresto le stava facendo bene ora la figlia lo chiamava molto più spesso che in passato e un po' di disagio e sofferenza tutto sommato non possono fare altro che migliorare una persona. Dopo varie vicende giudiziarie il 24 settembre 2021 il Dipartimento di Giustizia statunitense ha annunciato di aver raggiunto un accordo. Meng avrebbe affermato di aver fatto dichiarazioni false su Huawei in cambio dell'archiviazione di tutte le accuse. E così Meng lascia Vancouver il giorno stesso dopo aver trascorso più di mille giorni agli arresti domiciliari e a terra in Cina dove riceve un'accoglienza da eroe e il 1 dicembre 2022 le accuse contro Meng Wanzhou vengono archiviate e il caso finisce così. Huawei era diventato il simbolo della competizione tecnologica tra Washington e Pechino e contemporaneamente alla vicenda a Meng Wanzhou cominciano anche le sanzioni statunitensi dirette contro l'azienda cinese e l'amministrazione Trump ha iniziato a limitare le vendite di semiconduttori a Huawei già nel 2019 per poi arrivare nel corso degli anni a un embargo quasi completo della tecnologia e dei beni statunitensi per Huawei e le accuse riguardano la cosiddetta tecnologia a doppio uso a uso civile e militare e quindi l'idea che lo sviluppo di Huawei aiutasse la Cina nell'avanzamento militare in ambiti quali la fibra ottica o le tecnologie satellitari ma oltre a questo l'azienda è anche stata accusata in più occasioni di aver effettuato spionaggio o di aver creato sistemi che lo permettano. Ma come si è arrivati fino a questo punto? Beh le polemiche verso Huawei cominciano già dal suo fondatore cioè Ren Zhengfei. Lui nel 1974, allora trentenne, entra nell'esercito cinese e il suo compito è far funzionare una fabbrica di tessuti sintetici gestita dai militari e riuscirà a installare un apparecchio per il controllo della qualità in modo da incrementare la produzione ma questa è la sua biografia ufficiale. Per i politici americani Ren Zhengfei è in realtà un ufficiale di alto rango dell'intelligence dell'esercito popolare di liberazione cinese ed è una posizione che avrebbe aiutato Huawei ad emergere. Ma tornando alla sua biografia ufficiale, Ren Zhengfei viene smobilitato dall'esercito nel 1983, l'anno in cui si trasferisce a Shenzhen e si mette in proprio, piazzando centraline telefoniche in una zona all'epoca circondata dalla campagna e i topi mangiavano i cavi, facendo saltare le linee e Ren Zhengfei ha l'idea di utilizzare i cavi militari più robusti e inattaccabili dai topi. Questi aspetti della sua biografia sono discussi ma certo è che Ren Zhengfei, nonostante sia attivo a Shenzhen cioè il cantiere per eccellenza del capitalismo cinese lui però si dichiara un comunista devoto e ha cercato di radicare l'ideologia del partito comunista cinese nella gestione e nella cultura aziendale di Huawei. Questa azienda viene fondata il 15 settembre del 1987 e fin dall'inizio si occupa di telecomunicazioni partendo come importatrice di componenti telefonici da Hong Kong e rivendendoli in Cina e nel 1993 Huawei realizza lo switch telefonico cinese più potente dell'epoca e si dice anche grazie a ingegneria inversa fatta sui prodotti hongkonghesi ma certo è che l'azienda cresce e insieme a ZTE partecipa alla costruzione dell'infrastruttura telefonica nazionale e militare della Cina. Le cose cambiano quando la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e Huawei comincia a essere accusata di collaborazione con nazioni soggette a sanzioni. Nel 2001 viene accusata di aver aiutato i talebani con apparecchiature per le telecomunicazioni ma verrà scagionata per mancanza di prove. Nel 2003 viene accusata di aver violato le sanzioni statunitensi contro l'Iraq di Saddam Hussein e Huawei confermerà di avere dei progetti aperti in Iraq dal 1999 ma successivamente abbandonati. E nel 2018 con l'arresto di Meng Wanzhou si parla di aver violato le sanzioni contro l'Iran ma anche nel 2019 il Washington Post a luglio accusa Huawei di aver segretamente aiutato per otto anni la Corea del Nord nello sviluppo della sua rete 3G violando le sanzioni statunitensi. E sempre nel 2019 Reuters svela i rapporti di Huawei con la Siria tramite una società intermedia che avrebbe permesso all'azienda cinese di violare le sanzioni statunitensi. Insomma, stando alle accuse non c'è una sanzione statunitense che Huawei non abbia violato in qualche modo ma le accuse non si fermano qui e riguardano anche lo spionaggio industriale e di tutte queste presunte pratiche sleali di Huawei quella contro Nortel è certamente la più interessante. Nortel, produttore canadese di apparecchiature per le telecomunicazioni era una delle più grandi aziende del mondo e l'azienda dominava il mercato dei sistemi di trasmissione dati in fibra ottica aveva inventato un dispositivo touchscreen quasi un decennio prima dell'iPhone e controllava migliaia di brevetti su fibra ottica e wireless. Ma nel 2004 800 documenti riservati di Nortel arrivano in Cina. Si tratta di presentazioni PowerPoint da incontri con clienti analisi di una recente perdita di vendite e dettagli di una progettazione per una rete di comunicazione americana oltre che altri documenti tecnici incluso il codice sorgente dell'infrastruttura informatica che è un'informazione estremamente sensibile e gli hacker avevano ottenuto un accesso quasi completo ai sistemi Nortel e lavoravano utilizzando indirizzi IP cinesi. Nortel fa poco per affrontare il problema tenendolo anche nascosto ai suoi potenziali acquirenti e l'ex CEO Zafirowski, in carica tra il 2005 e il 2009 ha affermato che la società non credeva che fosse un vero problema ma un vero problema lo era eccome stanno prendendo l'intero contenuto delle cartelle riservate e come un approccio con l'aspirapolvere avvertiva Brian Shields che all'epoca era un consulente senior per la sicurezza dei sistemi informatici e sempre Shields arrivò a considerare questo attacco hacker oltre che l'incapacità di Nortel di rispondere adeguatamente come l'inizio della fine dell'azienda e nessuno sa chi sia riuscito ad hackerare Nortel o dove siano finiti quei dati ma per Brian Shields dietro a questo c'era il governo cinese e Huawei e sarà proprio Huawei ad approfittarsi della caduta di Nortel prendendo i maggiori clienti dell'azienda canadese e assumendo quei ricercatori che da lì a poco avrebbero permesso all'azienda cinese di sviluppare la tecnologia 5G diventando leader del settore il fallimento di Nortel è dovuto a molteplici fattori che per lo più riguardano Nortel stessa e la crisi della bolla dot com e Huawei ha riaspinto le accuse dell'hackeraggio di dati e ad oggi non esistono né prove né accuse ufficiali contro Huawei in tutto questo gli Stati Uniti non sono rimasti certo a guardare e dalle rivelazioni di Snowden si scopre che nel 2007 gli USA avrebbero avviato un programma segreto contro Huawei e l'NSA, cioè l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense avrebbe bucato la rete del quartier generale di Huawei e del suo fondatore Ren Zhengfei nel 2011 il governo americano invoca i poteri della sicurezza nazionale per obbligare i suoi operatori telefonici a divulgare informazioni private in merito alle indagini sul cyber spionaggio cinese e nel 2012 l'House Intelligence Committee pubblica un rapporto che indica Huawei e ZTE come minacce alla sicurezza americana pur non fornendo prove concrete in merito insomma la guerra era cominciata ben prima del 2019 ma sarà solo con Trump e Biden che si arriva ad uno scontro frontale e nonostante la cattiva nomea sul brand nel 2018 in ambito smartphone Huawei aveva superato Apple diventando il secondo produttore per vendite nel mondo e nel 2020 supererà il primo in classifica cioè Samsung raggiungendo la vetta del mercato e così il 15 maggio del 2019 Huawei viene ufficialmente inserita nella Entity List insieme ad altre 70 aziende cinesi e il risultato sarà devastante specialmente nel mondo degli smartphone dove i dispositivi Huawei non possono più accedere ai servizi Google lato hardware non potendo più farsi stampare i chip dalla TSMC o da altre aziende leader nel settore semiconduttori Huawei si trova costretta a utilizzare le scorte dei magazzini con Biden la guerra dei chip lanciata dagli Stati Uniti alla Cina si fa sempre più intensa andando a coinvolgere anche molte aziende cinesi ma come sta oggi Huawei? demolita nel settore smartphone Huawei è tornata alla sua vocazione principale cioè violare le sanzioni statunitensi o meglio l'infrastruttura delle telecomunicazioni le sanzioni statunitensi hanno ridotto la quota di Huawei nel mercato mondiale di telefoni cellulari da quasi il 20% del 2020 a un misero 4% nel 2022 e le entrate sempre del 2020 di circa 92 miliardi di dollari erano ben al di sotto del picco del 2020 di circa 140 miliardi di dollari e proprio nel 2022 Zhang Zhenfei ha avvertito che l'azienda lottava per la sopravvivenza a causa del gelo delle sanzioni ma a marzo di quest'anno Eric Xu cioè il presidente di turno dell'azienda ha dichiarato che Huawei è come un fiore di pruno che è diventato più dolce dopo il rigido gelo invernale e ciò che si intende è che Huawei sta attraversando un'enorme transizione che ha messo al centro ricerca e sviluppo e nel 2022 l'azienda ha investito un quarto dei suoi 92 miliardi di dollari di entrate proprio in ricerca e sviluppo che è più di Apple ma è anche più dei giganti tecnologici cinesi Alibaba, Tencent e Baidu messi insieme e lo scopo è sempre lo stesso cioè evitare le sanzioni statunitensi sviluppando una tecnologia all'avanguardia ed eliminando la dipendenza dagli Stati Uniti sconfitta nei mercati di consumo di smartphone Huawei si è concentrata in altri mercati nel business to business o nella tecnologia per le automobili di cui la Cina è il principale esportatore mondiale ma Huawei è anche attiva nelle infrastrutture cloud per sistemi IT e tra i successi già raggiunti ad aprile la società ha lanciato il suo ERP cioè il software per la gestione dei processi di tutti i segmenti di questa gigantesca azienda ed è il nuovo Meta ERP che rappresenta il progetto di trasformazione più ampio e complesso che l'azienda abbia mai intrapreso cioè un software per la gestione aziendale basato sul suo sistema operativo e su database interni su cui l'azienda ha il controllo completo prima di essere colpita dalle restrizioni del 2019 Huawei si era affidata al gigante tecnologico Oracle per il sistema ERP e questo per più di due decenni ma qualsiasi problema con il sistema ERP minaccerebbe di paralizzare il sistema nervoso del nostro intero business come aveva dichiarato Tao Zing Wen cioè membro del consiglio di amministrazione Huawei e ora quello ormai non era più affidabile a causa dell'aumento delle tensioni tra i due paesi e con lo sviluppo di questo prodotto si apre la possibilità per Huawei di aprire in futuro Meta ERP a clienti esterni con un aumento della diversificazione delle sue operazioni Huawei inoltre sta diversificando il proprio portafoglio concentrandosi su settori come infrastrutture di trasporto veicoli autonomi porti, miniere, finanza, istruzione e assistenza sanitaria cioè sensori, strumenti e altri dispositivi interconnessi e collegati in rete per l'incremento della produzione o la gestione energetica l'ottimizzazione dei processi industriali tramite l'intelligenza artificiale questo settore è indicato come la culla della nuova rivoluzione industriale e la Cina è il paese in cui la robotica applicata all'industria è quantitativamente superiore rispetto ad ogni altro paese e Huawei è diventato parte di questo processo nel 2021 il volume delle vendite di robot industriali in Cina ha raggiunto le 270.000 unità con un incremento di circa il 50% rispetto all'anno precedente e questo rappresenta una densità di robot di 322 ogni 10.000 lavoratori al quinto posto a livello mondiale come densità secondo il World Robotics del 2022 un report della International Federation of Robotics e questa automazione unita alla crescente connettività fornita da Huawei consente la raccolta, lo scambio e l'analisi dei dati facilitando miglioramenti della produttività e dell'efficienza insomma l'esperienza di Huawei nel 5G e le sue incursioni nei servizi di cloud integrati con l'intelligenza artificiale che si occupano di analizzare le informazioni fornite dai sensori per elaborare istruzioni per i robot e questo processo consente un alto livello di transizione digitale e come ha affermato recentemente il CEO di Siemens la Cina svolge un ruolo chiave nella transizione globale verso l'economia digitale e guiderà la trasformazione digitale nel settore industriale ma questa trasformazione non riguarda soltanto la manifattura l'industria più dura in Cina è certamente quella legata all'estrazione del carbone, le miniere di carbone ci sono speciali disposizioni di legge per consentire a questi lavoratori di andare in pensione a 55 anni invece dei soliti 60 anche perché è l'industria che causa più morti sul lavoro e una delle più grosse miniere di carbone è a Honglioling nello Shanxi ed è qui che Huawei ha fornito l'infrastruttura di rete 5G per sensori remoti e tecnologia di controllo automatico per l'estrazione di carbone in questo modo il numero di persone necessarie sottoterra è dimezzato ed è stato ridotto drasticamente il loro carico di lavoro con i minatori che devono intervenire solo quando si presenta un problema e l'obiettivo finale è di non avere più lavoratori sottoterra entro il 2025 per le miniere più pericolose ed entro il 2035 per tutte le miniere di carbone del paese questa in breve è la storia di Huawei di questo fiore di pruno addolcito dall'inverno il cui futuro però è ancora incerto e se la Cina riuscirà nel suo intento dichiarato di rafforzare per quanto possibile l'autonomia nel settore dei chips allora sicuramente Huawei avrà vinto la sua scommessa diventando il più plastico esempio del concetto di Wei Zi cioè la parola cinese che sta per crisi composta da Wei, pericolo e Zi, possibilità, opportunità e lo sappiamo ogni crisi è contemporaneamente un pericolo ma anche un'opportunità e se invece non ce la farà allora il fiore di pruno appassirà e fine della storia e io se me lo consentirete sarò qui a raccontarvi come finirà questa storia e per consentirmelo potete sostenere il canale con TPI o con GoFoundMe e trovate i link in descrizione ciao a tutti dolci fiori di pruno